Sono dei volatili, come i falchi, le colombe, le civette, ma non volano, non ci riescono, hanno le ali troppo piccole. Il sistema è vero, come i falchi, le cagli, le cagli, le cagli, le cagli. Il sistema è vero, è inesorabile, è matematico, siete voi che non funzionate. Sapete quanto tempo impiegherebbe una gallina per andare sulla luna a piedi? 27.000 ore, 1.144 giorni, poco più di tre anni, una gallina sulla luna in tre anni.